Parte questa stagione con quali obiettivi? Gli obiettivi sono di fare il massimo che possiamo fare, abbiamo avrestito una squadra importante una squadra che deve ambire a cose importanti, quindi lavoreremo per questo sono contento di questi primi giorni che abbiamo fatto a Notalesco perché ho visto già qualcosa di importante che è il gruppo in questi dieci giorni che staremo qui a Isola cercheremo di cementare ancora di più il gruppo e cercare di iniziare a diventare squadra che è la cosa più importante Rispetto agli altri anni si è cambiata location da Castel del Monte a Isola del Gran Sasso una struttura, un campo soprattutto rinnovato in erba sintetica Siamo stati benissimo, come lo sono stato anch'io a Castel del Monte adesso abbiamo cambiato location, ringraziamo l'Isola del Gran Sasso che ci ospita il campo è bello perché è stato fatto da poco, la struttura va benissimo per lavorare speriamo di fare un bel lavoro e di arrivare il prima possibile a una condizione accettabile A distanza di qualche anno Massimo Epifani ha riabbracciato la società del Presidente Salvatore di Giovanni Io mi sento a casa, mi sono tornato a casa con il Presidente del Rapporto con il Presidente Salvatore di Giovanni con il calcio, ho ritrovato persone che lavoravano qui con me che abbiamo fatto un percorso importante di crescita tutti insieme e si riparte con grande ambizione, con grande voglia, con grande umiltà di cercare di fare un grande lavoro e cercare di arrivare a un risultato che tutti quanti noi ci aspettiamo Ovviamente inizia il ritiro ma il mercato non è finito, cosa chiede Epifani alla società? Dobbiamo ancora sistemare alcune cose per chiudere la rosa sono soddisfatto del mercato fatto fino ad oggi, sono soddisfatto di quelli che sono arrivati sono soddisfatto di quelli che sono rimasti sono contento fino ad oggi di quello che abbiamo fatto adesso dobbiamo completarla ma con grande tranquillità, con grande calma so che il Presidente è attento a queste cose e speriamo di fare un grande anno grazie grazie grazie